Non si sono contraddetti e hanno raccontato di questo padre padrone per loro stessa definizione. Non era soltanto un padre padrone, era anche un padre che d'altra parte è cresciuto e ha fatto laureare 5 figli. Un padre padrone che non si faceva problemi ad alzare le mani sui figli e sulla moglie. Questo è il ritratto emerso in corte d'assisi a Lanciano di Aldo Rodolfo di Nunzio, 72 anni, accusato di omicidio volontario aggravato della coniuge Anna Maria Deliseo, 60 anni, trovata senza vita il 15 luglio di due anni fa nel garage cantina della casa familiare Iconicella. Sono i cinque figli della coppia a testimoniare nella nuova udienza davanti al collegio giudicante presieduto da Giovanni Nappi. Giusefin, Alnadona, Loana, Giuseppe e Nunzio, nati dal 1980 al 1995, hanno raccontato gli ultimi tempi di vita della loro madre e del carattere turbolento del padre, peggiorato a fine estate 2021, quando si candidò al Consiglio Comunale di Lanciano, poi non eletto. In casa erano litigi continui, tanto che il padre arrivò a cacciare due figlie con le rispettive famiglie dopo un episodio ritenuto cruciale avvenuto il 2 ottobre dello stesso anno, quando, hanno riferito, il loro papà colpì la madre in testa con un bastone. Chiesero aiuto al medico di famiglia, scrivendogli anche una lettera, ma senza esito. All'uomo, che era in cura al centro di igiene mentale, a fine anno fu diagnosticato un disturbo bipolare con schizofrenia. Nel frattempo la moglie era finita anche là in cura per stati di ansia. La vita col marito era diventata insopportabile, ma dopo aver lasciato la casa per un paio di mesi, era tornata per timore che lui potesse portare un'altra donna sotto il tetto coniugale, vanificando tutti i sacrifici fatti. Solo a dinunzio, infatti, è intestata la casa di famiglia. Quindi l'epilogo tragico di quel 15 luglio, quando l'ex ispettore dei Vigili del Fuoco chiamò da prima i soccorsi e poi i figli, dicendo che la moglie si era impiccata. È colpa vostra, avrebbe poi accusato gli stessi figli di aver cagionato la morte della madre. Ma come? Mamma non sapeva nodare il cappio per impiccarsi, è emerso dalla testimonianza di uno dei figli. Prossima udienza, fine novembre, con altri testi da ascoltare. È successo un episodio dove lui ha colpito la moglie con un bastone. Non è che le bastonate erano il pane quotidiano, assolutamente. C'erano atteggiamenti, si litigava, parole. Anzi, uno dei figli ha spiegato che non aveva mai assistito a episodi di violenza fisica. La proposta accusatoria, chiamiamola così, del PM è robusta. Nel corso del dibattimento diciamo che va in quella direzione, però abbiamo da ascoltare ancora i periti che sono fondamentali in questo dibattimento, in questo procedimento e quindi aspettiamo le loro dichiarazioni.